bella a tutti ragazzi qui è gmail ed oggi siamo qui nella frimo nei lobby come vedete e ragazzi mi dispiace c'è per chi non è entrato ora ma tanto entrerà di sicuro come vedete sta dando i soldi il modere quello laggiù con la chitarra bravissima persona davvero disponibile sempre quindi ragazzi mi dispiace per chi non è non è riuscito subito a entrare io ho fatto il più svelto possibile invitare più svelto possibile invitare la gente quindi ragazzi ragazzi la prossima frimo nei lobby ci sarà a 750 iscritti davvero vi ringrazio e questo per festeggiare 500 iscritti ragazzi ora il modere sta dando i soldi come vedete singolarmente a persone uno scatafascio e quindi ragazzi ragazzi davvero vi ringrazio per questo enorme traguardo di 500 iscritti e speriamo di raggiungere almeno i 1000 iscritti entro fine di quest'anno e il modere ora ci sta salutando lo ringrazio davvero ragazzi e quindi da gmail è tutto e ci vediamo nei prossimi video ragazzi il contest e l'estrazione non so se ci faccio in tempo a farla perché oggi sono stato sono molto impegnato e quindi ragazzi forse ve la porto domani quindi da gmail è tutto ragazzi oltre che una frimo nei lobby questa ragazza ragazzi di anche una fa nei lobby ora il modere siamo tutti dentro il bus che si parte falsa partenza e pronti attenzione attenzione ragazzi siamo pronti verso ragazzi siamo pronti verso l'infinito e oltre mamma mia ragazzi credo che che questo sia un mod del bravissimo e lo ringrazio davvero per questa frimo nei lobby quindi da gmail questa è oltre che una frimo nei lobby anche una fanny lobby davvero questo modder si impegna perché ha voluto chiedere chi non ha ricevuto i soldi e gli ha fatto una lobby anche per loro i soldi ci sono per tutti potete stare tranquilli anche per le prossime frimo nei lobby siete in mani d'oro quindi ragazzi da gmail è tutto ci vediamo nei prossimi video e ci vediamo tra poco con un'altra frimo nella bella ragazzi